Noi stiamo manifestando, non per protesta ma per appoggio al nostro ministro che sarà il 23 a Bruxelles, per la nuova normativa europea, l'action plan, che effettivamente c'è una regola che dovrebbe portare a chiusura di aree marine a mare protette, telecamere a bordo per sorvegliarci, giornate aggiuntive in più e diciamo che questo non è una cosa sostenibile per la pisca. Noi non riusciamo più ad andare avanti con questi regolamenti e questi restringimenti. È stato votato questo action plan anche in Commissione, Camera e Senato, bocciato da entrambe le parti, quindi questa è una manifestazione di sostegno al nostro ministro quando sarà a Bruxelles l'agrificio del 23.